Musica E benvenuti ragazzi sono Gilbrek e sono qui oggi Tornato a portarvi un nuovo video In cui regà proveremo a vincere qualche partita in solo Ma proveremo a battere il mio record Purtroppo ho guardato prima nel replay E non avevo salvato il replay Però purtroppo non me lo trovo più Quindi non so effettivamente dove sia finito Comunque il mio record è di 10 kill Se l'avevo fatto vedere nello scorso video Quindi se lo siete persi andatevelo a vedere Oggi regà proveremo a fare più di 10 kill Però non vi assicuro niente Perché io in solo sono scarsissimo Faccio questa serie qua giusto perché voglio migliorare in solo Quindi è per spronarmi a migliorare Prima di partire però vi ricordo che io vi lascio Varie spezzoni di partite Avrei piacere che voi commentate qua sotto Con consigli su come migliorare in solo Visto che questo video servirà anche a tanta altra gente Per migliorare appunto in solo Quindi se sei uno che gioca spesso e volentieri in solo E vuoi dare consigli Scrivili pure qua sotto nei commenti Vi ricordo prima di partire anche Che se volete supportarmi Potete utilizzare il supporter creator Gilbeu Con l'h finale tutto minuscolo Ho visto che siete già in tanti chemi supportati Quindi sono veramente veramente Niente regà Startiamo in solo Ci buttiamo in un posto Non dico troppo Pinnacoli No perché Pinnacoli Spawno Muoio Spawno Muoio Spawno Muoio Spawno Faccio una kill Muoio E quindi è meglio evitare Qui intanto muori Perché Fatto a kill mi serve Spawno Ok Ok Ma si sono scambiati di cosa Ok 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 raga Ok direi che come start Ci può stare Che ne dite Che è che qua Ma dimmi te Ok anche lui è killato Niente raga Io me la ripto Me ne vado In un posto tranquillo A luttare Me ne vado tipo qua Spera che non ci sia nessuno Guarda lui Continua a spararmi È questo No raga Dove andare in un posto Non c'è nessuno Ma questo Wow 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 Ma la gente continua a spararmi eh Che dica Oh mio dio ma è un elicottero Vabbè vediamo intanto Sta cassa qua Cosa ci dà Allora diamo ci stomeriche Tranquilli Come start Grande start Armi Non siamo messi malissimo Però Non siamo nemmeno messi In granché Il problema è che Siamo senza air Quello è un problemino Niente scar Riuscissi a semperarlo Sarebbe il top Guarda lì che fight Devo attendere Il momento giusto Tu mi sembra molto più forte Di quello lì Ok raga Non so come abbia fatto vincere Il fight questo qua Visto che mi sembrava scarsissimo Però Va bene Non avevano degli air decenti Però Va bene così raga Ehi bro Non so come abbia fatto No, l'elicottero no, regà Regà, io me ne vado Perché A me gli elicotteri non piacciono proprio Ok, regà, siamo a 3 kill Dall'eguagliare il nostro record Non mi importa se non la vinciamo Però vorrei provare a fare queste 10 kill Se 11 kill Così in modo da superare il mio record Anche se la vedo molto dura Anche perché come armi non è che siamo messi così bene Che fastidio gli elicotteri, regà Mamma mia Io giuro che all'interno del gioco Non c'è una cosa che mi dia fastidio più degli elicotteri Già solo quando li sento Sento il rumore mi dà proprio fastidio Guardalo lì che vuole andare a pushare gli altri E noi andiamo a pushare lui che sta pushando gli altri Lì ok raga ucciso qua da qualche parte c'è un lanciarazzi ok raga siamo rimasti in 9 io solo sa quanto vorrei uno scudone adesso poi raga io non so voi ma quando gioco in solo mi sale un'ansia in endgame non so perchè quando gioco in squad e duo non mi frega proprio niente se perdo però in solo visto che sono scarso mi sale un'ansia adesso sto stremando come una bambina guarda l'hack si era andata eh questo qua è un fenomeno no raga buccato scara bravo però ah fuck off posso trovare queste armi qua in tutta la casa ok ok Che stai? Ci sta anche qua Qui sono belli forti Sì Sì Buon bitch Non fotti con il gisbone Easy boy Full di materiale ovviamente Easy boy Sì Ciao a tutti